buongiorno archiderio di brosolo archidiano medicina per l'anima vi ricordo sempre il nuovo libro archidea storie personaggi 3 edizione 369 pagine mi raccomando condividete pubblicizzate o fatte recensioni su amazon.it abbiamo bisogno di recensioni su amazon.it va bene allora io di note intanto sono lì nella dormivea così mi vengono in mente le cose stavate pensiamo ma cosa succede qui in italia adesso quando sperando che perisca sto coronavirus perché adesso vedevo oggi su questo che quando c'è stato nel nel 1918 c'è stata la spagnola la prima ondata è stata molto grave così ha fatto 60 milioni di morti alla spagnola altro che il coronavirus poi c'è stato il secondo picco il secondo picco è stato quello più forte e poi c'è stato che un terzo adesso noi abbiamo passato il primo picco del coronavirus vediamo cosa succede perché poi cosa farebbe in italia allora io mi ricordo quando ero un ragazzo qui a morosolo il paesino era piccolino è c'era la chiesa con intorno un po di case proprio attorno attorno alla chiesa il paese era tutto lì poi fuori c'era una decina di cascine come quella di mio nonno circa 400 metri dal paese delle cascine delle fattorie però allora tutti gli abitanti di morosolo ma proprio tutti ogni famiglia ci aveva un pezzettino di terra fuori del paese dove facevano l'orto coltivavano gli ortaggi per l'estate per l'inverno le verze la circolio queste robe qua avevano andavano nel bosco per la legna in autunno andavano per la legna per l'inverno con le castagne cioè faceva tutti i lavori così c'era qualcuno aveva qualche gallina qualcuno e anche qualche coniglio qualcuno qualche maiale così però ognuno aveva una sua produzione di piccola produzione alimentare oggi se dovesse succedere qualche cosa in italia il 90 per cento della gente non ha mai preso in mano una vanga una zappa non so neanche come si fa da che parte si comincia se dovesse col debito pubblico che abbiamo se in dei momenti così con la non solo succede qui ci sarà un sacco di migranti italiani che se ne vanno perché ci sarà da morire di fame qua è sì io spero bene perché potrà essere che va tutto bene speriamo che l'europa si dà la mano che ci rimettiamo in carreggiata ma mettete che c'è qualche problema cosa succede qua in italia quando ero un ragazzo io allora l'italia aveva 40 milioni di abitanti 45 milioni di abitanti adesso sono più di 60 milioni ma loro erano tutti abitanti che erano abituati con una vita proprio molto molto magra povera non c'era granché tutti si accontentavano di quello che c'era no e ognuno aveva appunto si dava da fare dopo il lavoro qui a bruciolo la maggior parte andavo a lavorare c'era due tre fabbriche grosse qui e poi dopo dopo il lavoro in fabbrica facevano il lavoro in campagna perché quando andavo a scuola io l'economia era divisa in tre settori il primario che è quello che produce i beni indispensabili per vivere l'agricoltura che produce quello che si mangia poi c'era quello secondario che era l'industria edilizia così e poi c'era il terziario che quello dei servizi allora ogni azienda ogni famiglia aveva una piccolissima una piccola produzione primaria si arrangiavano a fare quello che si poteva e poi si accontentavano di poco oggi siamo abituati abbiamo siamo l'america noi qua se dovesse succedere qualcosa cosa succede adesso è arrivato sto virus qua microscopico e ci ha messo in crisi mettete mettete caso che si bloccano i computer quando c'è stato il 2000 c'è stato il c'era il problema del bacco del millennio che si pensava che i computer non erano programmati per il 2000 e per cui potevano andare in tilt c'è stato un casino che tu ti va a porre sto bacco del millennio poi invece il computer c'è la soccavata ma vedete che si bloccano i computer non si fa più niente perché tutto è fatto col computer oggi una volta quando dovi fare la spesa c'era negoziante segnava giù e poi faceva i conti a mano adesso alla gente non è che più capace per i conti a mano vai la tt tt con il codice a barre no con la carta di credito non funziona più niente se si blocca nel computer non funziona più niente torniamo l'età della pietra Einstein diceva non so perché armi si combatterà la terza guerra mondiale ma sicuramente la quarta con i bastoni con le pietre ecco noi siamo i piccoli di computer torniamo ai bastoni le pietre torniamo alla preistoria perché non siamo più capaci di fare niente cercate uno che capace di fare la divisione o fare dei conti quindi perché fa tutto col computer ormai non è più abituato e oggi pensieri negativi speriamo bene perché ve l'ho detto che ho sentito di 10 15 giorni fa in una trasmissione paolo mieli che ha detto questa questo virus qua questa epidemia spazzerà via tutta la vecchia classe dirigente e ci sarà una nuova classe dirigente ci sarà nuovo risorgimento però quando gli ha dato mio fratello mio fratello detto sì però sperando che la nuova classe dirigente non sia peggio di quella vecchia speriamo bene e paolo mieli cioè mentre le mie sono chiacchiere da bar perché non ho le informazioni che a paolo mieli paolo mieli è stato dei più grandi giornalisti italiani è stato per tanti anni direttore del corriere della sera e lui ha delle notizie che io non ho cioè per cui spero tanto che paolo mieli abbia ragione speriamo vabbè dai oggi il video così domani facciamo video sulle orchidee